Qui con noi è Edoardo Turolla, che è il responsabile della divisione molluschicoltura dell'Istituto Delta, che è uno spin-off dell'Università che si occupa di ricerca e tecnologia nel campo della molluschicoltura. Voi tenete costantemente monitorate le acque della sacca, qual è ora la situazione? La situazione attuale è sicuramente migliore rispetto a quella di qualche anno fa. I lavori svolti in laguna per vivificare alcune aree della sacca hanno dato i primi risultati. Già l'annata 2009, sia per quel che riguarda la produzione, ma soprattutto per quel che riguarda le perdite conseguenti alle morie, sono nettamente inferiori rispetto all'annata precedente nel 2008. Ciò non toglie che non bisogna abbassare la guardia, che bisogna continuare a studiare sempre questi fenomeni, l'evoluzione del Delta del Po e della laguna in particolare, che bisogna evitare, come è successo nel 2008, una catastrofe di tipo ambientale e poi dal punto di vista anche economico. Quali sono le principali problematiche? La principale problematica è legata alla natura del Delta del Po stesso, è un ambiente in continua e inesorabile evoluzione, che porterebbe naturalmente a chiudere lo sbocco della laguna con il mare, quindi a far trasformare la laguna in quella che dovrebbe prima un lago e conseguentemente una palude, quindi perdendo di significato sia dal punto di vista ecologico e naturalistico, ma ovviamente anche dal punto di vista produttivo. Ricordiamo l'importanza di questo habitat per gli insediamenti di vongole veraci che ci sono attualmente. Che prospettive hai per questo 2010? Io spero, non posso prevedere con sicurezza che cosa succederà, anche perché la natura bene o male alla fine decide lei come devono andare le cose. Visti i lavori che sono stati svolti recentemente, io spero che le condizioni migliorino ancora ulteriormente, quindi che il 2010 confermerà la validità di questi interventi come è già successo, per esempio nel 2009.